Buonasera, nuovo spazio dedicato agli aggiornamenti dal territorio. In apertura come sempre il bollettino Covid relativo ai numeri del Veneto. Anche oggi è tragico il numero delle vittime provocate dal Covid. 106 persone hanno perso la vita in 24 ore in Veneto. I nuovi positivi sono 3.379, 2.958 ricoverati all'ospedale con una lieve flessione rispetto alla giornata di ieri. I dati relativi all'andamento del Veneto fanno cambiare il colore al territorio. Così quattro regioni al momento dal lunedì rimarranno dello stesso colore del weekend, cioè arancione. Sentiamo. Il Veneto dopo il weekend resterà zona arancio, stesso colore anche per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia. La nuova stretta resterà in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'attuale DPCM. Con il nuovo DPCM verranno valutate eventuali proroghe, fa sapere il Ministro della Salute. Attualmente l'indice RT in Veneto è 0.97, in Emilia-Romagna 1.05. Ricordiamo che con il colore arancio, bar e ristoranti potranno somministrare solo l'asporto, mentre i negozi potranno rimanere aperti. Saranno però vietati gli spostamenti tra comuni, resi possibili solo a chi vive nei territori con 5.000 abitanti, nel raggio di 30 km, senza raggiungere i capoluoghi di provincia. E per quel che riguarda la montagna, in Italia resta l'incertezza sull'apertura preannunciata degli impianti sciistici sull'intera penisola. Naturalmente per quel che riguarda le montagne del Veneto al momento non se ne parla. Insostenibile per la categoria non avere certezze. Per molti paesi di montagna lo sci è l'unica fonte di sostentamento e questa situazione di stallo che si protrae sta creando danni enormi, affermano gli operatori. Nessuno nega la gravità della situazione pandemica, ma viene chiesto un piano definitivo senza incertezze sul modo di operare. Il ministro dell'Ambiente ha accolto la richiesta di proroga per l'entrata in vigore dello stop ai veicoli Euro 4 diesel avanzata nei giorni scorsi dai presidenti delle regioni del Bacino Padano. La proroga allo stop dei veicoli diesel Euro 4 sarà una misura comunque temporanea e non diminuirà l'impegno per combattere lo smog. La prossima settimana si terrà una manifestazione di interesse per Movin, la cosiddetta scatola nera anti-smog. Appena avremo il piano del provider, spiegano, potremo partire anche con quella misura. Epidemia colposa è questo uno dei reati che viene contestato a chi viene sorpreso positivo ma fuori casa con la consapevolezza. Diversi padovani scoperti ora si trovano nei guai. Reato di epidemia colposa è ciò che viene contestato a chi viene sorpreso fuori casa nonostante la positività al Covid-19. La procura di Padova ha già avviato vari provvedimenti nei confronti di cittadini sorpresi all'esterno delle proprie abitazioni. I controlli sono operativi e chi pensa di farla franca rischia grosso. Ciò che manca è il rispetto verso gli altri e questi comportamenti assumono le sembianze di azioni criminali perché anche una banale uscita di casa, se si è positivi, si trasforma in un pericolo potenzialmente mortale per le persone che si incontrano lungo il tragitto. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato nel porto di Genova il maxi-yacht di oltre 50 metri di proprietà di Paolo Fassa titolare dell'azienda trevigiana di Calcestruzzi e patron dell'omonima squadra di ciclismo. è indagato per frode fiscale e autoriciclaggio in un'inchiesta dei PM milanesi Paolo Sartori e Giordano Baggio. Il valore stimato dell'imbarcazione è di circa 30 milioni di euro. In provincia di Padova, Ponte San Nicolò, in via Dario, questa mattina incidente stradale è ferito un uomo, un'automobile finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente che appunto è rimasto ferito. L'uomo è rimasto anche bloccato all'interno dell'automobile al posto di guida è stato estratto dai vigili del fuoco e subito affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale. L'incidente si è verificato alle 11.30. Parliamo di un'operazione antidroga eseguita dai carabinieri in provincia di Padova dove è stato scoperto un campionario di droghe nell'abitazione di questo uomo di 34 anni residente a Limena. In particolare aveva diversi francobolli intrisi di sostanza pari a 1.800 dosi. Sentiamo. Un vero e proprio campionario di droghe è stato trovato dai carabinieri di Vigo d'Arzere nell'abitazione di un 34enne di Limena arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Al termine di un'articolata attività di indagine è scattata una perquisizione nella casa dell'uomo scoperte 1.800 dosi di droga del francobollo apparentemente bolli ma in realtà intrisi di sostanza stupefacente del tipo MADMA. Trovate anche pasticche, metanfetamine e cocaina. Dalle indagini è emerso che l'indagato in tempi non covid era solito vendere nei locali da ballo ed è stato appurato come per approvvigionarsi dello stupefacente accedesse ad alcuni siti nel dark web dove perfezionava gli ordinativi che gli venivano successivamente spediti per posta dall'Olanda. Una storia commovente arriva dall'ospedale di Cittadella in provincia di Padova dove marito e moglie ricoverati per il covid non si erano più incontrati fino a quando lei è stata accompagnata al letto del marito e lo ha baciato attraverso la mascherina. Un incontro che ha emozionato tutto il personale sanitario e i pazienti che hanno assistito alla scena. Italo e Antonia, 74 e 72 anni, sono ricoverati in due reparti diversi. Lui è in terapia semi-intensiva con la maschera dell'ossigeno sempre addosso. Lei era entrata in ospedale il 20 dicembre finendo in malattie infettive. Lui l'aveva seguita a ruota l'ultimo giorno dell'anno passando direttamente dal pronto soccorso alla semi-intensiva. La qualità di un'organizzazione sanitaria si misura non solo con la proprietà e l'efficacia delle prestazioni rese ma anche con l'attitudine ha spiegato commosso il dirigente generale dell'Ulss 6 Uganea Domenico Scibetta ad accogliere i pazienti, in particolar modo i più anziani e fragili, con quella disponibilità e quella tenerezza con le quali ciascuno di noi vorrebbe da malato e da degente essere trattato. Da sindaco a sindaco il programma di Telecittà guidato dal primo cittadino di Rovolonna, Maria Elena Sinigaglia, sta crescendo e sta raggiungendo ottimi risultati in termini di risposta e di ascolto. Un programma che permette ai numerosi comuni di entrare nelle case dei telespettatori. Sentiamo. Maria Elena Sinigaglia, sindaco di Rovolonna, ogni giovedì sera su Telecittà incontra un sindaco del territorio Veneto. Un programma televisivo unico nel suo genere, un sindaco che si confronta con un altro primo cittadino per mettere in risalto le caratteristiche di un territorio, ma anche un momento di confronto tra chi tiene le redini dei comuni e desidera rendere partecipe il pubblico. Il format è nato proprio con l'idea di rendere le amministrazioni più vicine alla gente entrando nelle loro case e raccontando le varie sfaccettature che una località porta con sé. Dalle caratteristiche alle peculiarità, la storia, ma da sindaco a sindaco racconta anche le difficoltà che un'amministrazione deve affrontare, i successi e le sfide. E ricordiamo che questo programma va in onda ogni giovedì sera alle 20 e 30. Da inizio mese sono cominciate le iscrizioni scolastiche per alcune categorie di studenti per facilitare le procedure da seguire attraverso il web. Da quest'anno c'è una novità, un assistente virtuale all'interno del sito del Miu. Da alcuni giorni sono iniziate le presentazioni delle domande online per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e per i centri di formazione professionali delle regioni. Sul sito del Miu all'indirizzo www.istruzione.it slash iscrizioni online da quest'anno c'è anche una novità introdotta per facilitare la procedura. Si tratta di un assistente virtuale che accompagna in caso di necessità l'utente nelle procedure di presentazione della domanda. Domande che potranno essere presentate sulla pagina del Ministero dell'Istruzione fino al 25 gennaio entro le ore 20. E adesso ritorna la nostra rubrica di approfondimento dedicata alla storia. Allora diamo subito il bentrovato a Marisa, sotto via esperta di storia. Ben ritrovati con la storia, oggi parliamo di Benedetto Marcello che fu compositore, poeta e scrittore, avvocato, insegnante e anche magistrato, quindi senz'altro un personaggio eclettico. E allora conosciamo la storia dell'artista che nacque a Venezia 1686 dalla famiglia dei Patrizzi Marcello del ramo dei Maddalena. Il papà Agostino, uomo di cultura, si interessava di musica e suonava il violino. Anche la mamma era dedita al disegno e alla poesia, quindi si trattò di una famiglia di elevato spessore culturale ma aveva perso la sua influenza in campo politico. Benedetto fu avviato agli studi di violino ma senza grandi risultati. Ci fu un anedito e un episodio particolare. In questa famiglia ci fu la visita di una principessa tedesca che si trovò anche ad assistere un'esecuzione musicale del fratello Alessandro, ma lei si accorse anche di Benedetto e chiese al fratello Alessandro di che cosa si occupa Benedetto e lui rispose, al massimo mi passa gli spartiti. Benedetto quando sentì questa affermazione rimase colpito, si sentì umiliato, si sentì offeso e da lì esplose la voglia di un riscatto, quindi si dedicò col massimo impegno allo studio della musica. Studiò Cavicembalo, poi Violino, i suoi compositori di riferimento furono Claudio Monteverdi, poi ancora Frescoballi e Corelli ed altri ancora. La sua produzione fu veramente di grande prestigio e ricordiamo i 50 salmi, poi ancora le 300 cantate, poi ancora opere di musica sacra e di musica profana e opere anche per il teatro. Benedetto Marcello fu un grande esperto di musica antica e anche barocca. Non fu tanto entusiasta del suo contemporaneo Antonio Vivaldi perché diceva appunto che la sua musica non era sufficientemente raffinata. Quindi si è trattato di un compositore di elevata cultura, di grande produzione, apprezzato poi successivamente negli anni dal poeta Goethe, poi ancora da Russini e anche da Verdi. Gli furono attribuiti molti riconoscimenti tra i quali il Conservatorio di Musica di Venezia è intitolato proprio Benedetto Marcello. Con l'occasione ricordiamo Ludwig van Beethoven in quanto ricorrono i 250 anni dalla nascita, nato il 16 dicembre 1770 a Bonn. Si tratta di uno dei più grandi compositori della musica, celebre in tutto il mondo per le sue sinfonie. Purtroppo nella vita è stato colpito da vari drammi, tra i quali la grande difficoltà di rapporto con il padre e poi ancora la sordità fu colpito a circa 30 anni. Per lui fu un dramma che lo portò quasi vicino al suicidio. Inoltre ebbe molti problemi in campo sentimentale. Però nonostante tutto questo lui compose sempre una musica piena di emozioni, ricordiamo l'inno alla gioia. E quindi di Ludwig van Beethoven noi ne siamo veramente grati per le composizioni, per le opere che si ha lasciato a tutti noi. Grazie a Marisa Sottovia, vi ricordo l'appuntamento ogni weekend e ogni venerdì sera all'interno del nostro telegiornale. Siamo arrivati al termine di questa edizione dedicata all'informazione, uno sguardo alle previsioni del tempo per il territorio. Tra sabato e domenica si avrà un modesto transito depressionario che porterà nuvolosità domani, venti di bora e qualche debolissima precipitazione nella prima parte di domenica. È tutto per questo spazio dedicato alle notizie dal Veneto. Tra poco l'informazione nazionale a cura di Italpress 24. Vi auguro una buona serata su Telecittà. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS